Buonasera, buonasera a tutti, stavo sfogliando una dei giornali, delle riviste che conosceremo nella puntata di questa sera, altre due testate legate alla FISH, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, dopo la sigla. Ed eccoci qua, continua il nostro Giro d'Italia, insomma siamo nel tempo del Giro d'Italia, quello ciclistico, ma quello editoriale lo stiamo facendo già da un po', da diversi mesi, oggi andiamo a conoscere altre due realtà vive che comunicano il territorio, comunicano la chiesa che rappresentano, diamo il benvenuto in studio a Domenico Marino, ben trovato Domenico? Ben trovato a voi, grazie. Direttore dell'Abraccio, che è il mensile della diocesi di Cassano-Logionio, siamo in Calabria, ben trovato, e poi collegata da Torino c'è Federica Bello, ben trovata Federica. Ben trovato a te, buonasera a tutti. Eccola qua, direttrice della Val Susa, settimanale dell'omonima diocesi, la diocesi di Susa, questa bella valle che da Torino va verso la Francia, verso il Sestrier e non solo. Tra poco capiremo e racconteremo delle vostre realtà di quella di Susa, ma partiamo dal nostro ospite in studio. L'Abraccio era il giornale che appunto stavo sfogliando poco fa prima di entrare in diretta. Dici, raccontaci, quando e come e perché nasce? Nasce 16 anni fa, in un colloquio con l'allora vescovo della nostra diocesi, era Monsignor Vincenzo Bertolone, cercavamo uno strumento per raccontare la diocesi, per raccontare le piccole realtà, le piccole storie, le parrocchie, le associazioni, le realtà religiose. Quindi poi, grazie alla sua disponibilità, mettemmo in piedi questo giornale. 16 anni fa il titolo, la testata, fu scelta pensando al colonnato del Bernini, che è l'abbraccio del mondo cattolico al mondo laico, e quindi diciamo questo nome. Anche nelle mancette iniziali c'era proprio il colonnato disegnato, stilizzato, che raccontava anche graficamente questa scelta. Un abbraccio, diciamo che il titolo dà già un po' l'indicazione, la direzione editoriale, un abbraccio non è un cerchio chiuso, ma è qualcosa che accoglie, che protegge, se vogliamo, ma lascia liberi, no? C'è anche una via di fuga, se vuoi. Esatto. Per fortuna, sì, perfetto. Si apre, protegge e accoglie. E ovviamente i nostri lettori per fortuna ci seguono da tempo, prima attraverso gli abbonamenti, adesso attraverso la distribuzione che abbiamo noi con un giornale laico, diciamo che è Gazzetta del Sud, quindi ci seguono e noi le ringraziamo anche in questa occasione. Stiamo vedendo anche delle immagini, insomma, della vostra diocesi. Che chiesa racconta l'abbraccio? Che diocesi racconta? Quali sono gli argomenti che sono al centro dell'attenzione dell'abbraccio? La tentazione sarebbe di dire che racconta chiesa di periferia, ma non lo voglio dire perché non è così, perché ogni centro è periferia, ogni periferia è centro, raccontiamo le parrocchie, raccontiamo le piccole realtà. A noi piace, essendo un mensile, raccontare le storie, e spesso una cifra editoriale che noi vogliamo avere è quella di farla raccontare a chi le vive le storie. Ecco, noi puntiamo molto nelle nostre riunioni di relazioni, insisto molto con le amiche e gli amici che mi danno una mano nel giornale, la facciamo raccontare, non la raccontiamo noi cronisti, la facciamo raccontare a chi l'ha vissuta. Una chiesa, diciamo, di prossimità, la chiesa che vuole Papa Francesco, la chiesa in uscita, ma la chiesa raccontata da chi è in uscita, non da noi che la raccontiamo da lontano. Bella, bella esperienza quella dell'abbraccio. Andiamo a Torino, andiamo in Val di Susa, Federica Bello, direttrice della Val Susa, un settimanale che nasce tanto, tanto tempo fa. C'era una volta, mi viene da dire, raccontaci. Esatto, noi nasciamo più di 120 anni fa, nasciamo dalla volontà di Monsignor Rosas, Beato, di cui si è celebrata la memoria liturgica proprio nei giorni scorsi, un Beato che ha avuto l'intuizione del valore della comunicazione, anche per le piccole realtà di montagna, anche per le piccole parrocchie, e quindi noi cerchiamo, io mi sono inserita in questo bel solco della tradizione Val Susina e della Val Sangone, anche, non dimentichiamolo, che è un'altra valle coperta dal nostro settimanale, proprio per dare voce e continuare a presentare le belle storie che si vivono, storie di cronaca, storie ecclesiali, dove il ponte tra Chiesa e territorio lo costruiamo passo dopo passo insieme. Avete tra i fondatori due beati, perché non male, perché è il Beato Eduardo Jeppe Rosas, ma anche il Beato Alberione, che nella comunicazione sociale, insomma, ha dato tanto alla Chiesa. Certo, c'è stato un periodo in cui le religiose del Beato hanno dato una grande mano a portare avanti il lavoro, la cucina proprio stessa del giornale, e sono tante appunto le religiose che ancora ci accompagnano, proprio come dicevo prima, le religiose del Beato Rosas collaborano anche con il giornale, ci continuano a dare una mano e a raccontare anche la loro dimensione attraverso le nostre pagine. Guardando, insomma, l'immagine anche della vostra redazione, possiamo dire che tu sei da poco tempo direttrice della Valsusa dopo una direzione di Don Ettore De Faveri che, insomma, salutiamo, che è durata ben 44 anni. Assolutamente. Io raccolgo un'edità preziosa da pochi mesi e cerco di continuare nel suo bel solco perché ha saputo davvero in 44 anni creare dei legami, leggere il territorio con professionalità e anche con una visione prospettica davvero significativa. Io mi insegno in questo solco aiutata da una bella redazione di giornalisti che si impegnano davvero a H24 per dar voce alle notizie quelle che potrebbero sembrare le meno significative a quelle più importanti. Torniamo all'abbraccio di Cassano Aloionio direttore Domenico Marino. Il nostro titolo di puntata è Stampa di Cesana Creare ponti tra chiesa e territorio. Il mensile dà la possibilità di approfondire quei temi e dà la possibilità anche al mondo laico di capire cosa pensa. La chiesa rispetto anche ad argomenti che sono poi di narrazione quotidiana e così anche per l'abbraccio. Sì, noi anche per quello che siamo essendo un mensile dobbiamo per forza puntare su un momento di riflessione di approfondimento di racconto di testimonianza e cerchiamo di raccontare la chiesa per chi la chiesa magari non soltanto perché la chiesa la vive e la conosce ma anche per chi non la vive e magari a volte diciamoci la verità la guarda anche con un po' di distacco di differenza e noi raccontiamo tante belle storie che ogni giorno si raccontano in chiesa e che spesso non ci fossero i giornali di Cesani l'abbraccio ma anche la Valsuse e tanti altri non sarebbe raccontata non ci fossero i giornali non ci fosse avvenire è interessante quel creare punti tra chiese e territorio anche tra mondo laico e mondo ecclesiale anche il modo in cui esce in cui viene proposto ai lettori questa collaborazione con un giornale laico raccontaci sì un giornale laico Gazzetta del Sud un giornale leader nel sud Italia non soltanto della carta stampata della stampa quotidiana che da qualche anno ci accoglie come panino quando nelle nostre uscite quindi ci distribuisce in tutto il suo percorso il suo ambito di diffusione in provincia di Cosenza panino è allegato sì un allegato un allegato esce insieme esce insieme alla Gazzetta e questo ci garantisce anche andare al di là del nostro territorio cesano che fa parte della provincia di Cosenza ma è una parte della provincia di Cosenza questo siamo una bella un bel abbraccio che abbiamo da anni con la Gazzetta che a noi fa piacere fa piacere anche a loro ma penso fa piacere anche ai lettori che la domenica trovano insieme al giornale anche questo piccolo regalo il nostro il territorio che restituisce storie quelle magari che non sono raccontate che non passano nei canali mainstream hanno nell'abbraccio un abbraccio ma proprio un'accoglienza ancora più più importante più forte con un racconto che arriva da dentro sì le cerchiamo le cerchiamo è un obiettivo nostro dei nostri dei nostri giornalisti è quello di cercare le storie raccontare le storie quelle storie che non raccontano gli altri una volontà che dicevamo è sin dall'inizio una nostra cifra editoriale perché sono tante però la difficoltà è farle emergere e quindi ecco perché riteniamo che l'abbraccio ancora adesso dopo 16 anni purtroppo non centro più di centro come la Valsusa è ancora sul funziona ancora e viene pubblicato è ancora in edicola esatto Federica Bello la Valsusa che rapporto c'è con i territori con i territori e con i lettori soprattutto come e se vi sostengono allora certamente c'è un rapporto vivo sono tutte comunità vive vivaci e quindi il giornale è proprio un punto di riferimento per cui c'è un continuo scambio di informazioni di contatti uno scambio che adesso con il mondo dei social si rende ancora più evidente perché oltre alle lettere che arrivano sul cartaceo oltre alle telefonate che ci giungono in redazione vediamo che i nostri post su Facebook hanno spesso diventano spesso uno spazio di dibattito di confronto di suggerimento di altre idee e quindi c'è un rapporto sicuramente dialogico e speriamo costruttivo insomma per aiutare e accogliere tutta la vitalità delle due valli e per proporre sempre notizie nuove ma un settimanale come la Valsusa che ricaduta poi ha se vogliamo per la chiesa locale qual è il ruolo come si differenzia magari da un settimanale non espressamente ecclesiale cioè anche come contribuisce a creare comunità contribuisce a creare comunità in diversi modi innanzitutto noi abbiamo delle pagine specifiche dedicate alla chiesa quindi sono pagine in cui diamo conto dell'orizzonte diocesano siamo in un periodo di grande trasformazione noi condividiamo il vescovo con la diocesi di Torino un vescovo che sta avviando un percorso di grande cambiamento e di lettura della chiesa proprio in rapporto al territorio e noi cerchiamo nelle nostre pagine dedicate alla chiesa di dare proprio questo respiro di dare questo orizzonte di cambiamento attraverso i piccoli passi che si stanno compiendo e poi c'è la vitalità della chiesa nella cronaca delle attività abbiamo proprio su questo numero abbiamo raccontato di una Pasqua ortodossa celebrata con ucraini e russi insieme che si sono dati un segno di pace e hanno pregato insieme per noi questo racconto è stata una bella testimonianza di chiesa di comunità di sguardo aperto ad un futuro speriamo di pace ci fermiamo solo per qualche istante andiamo in pubblicità quando torniamo torneremo a parlare della braccia di Cassano Luglioni ma verremo anche con le immagini a conoscere i giornalisti e i redattori della Valsusa dopo la pubblicità parliamo ancora questa sera di Buona Stampa editoria diocesana con Domenico Marino direttore dell'abbraccio della diocesi di Cassano Luglioni e con Federica Bello che è la direttrice della Valsusa settimanale della diocesi di Susa torniamo all'abbraccio è una piccola realtà che però dà la possibilità a tanti anche i più giovani di cominciare a fare pratica per quanto riguarda il giornalismo provare in qualche modo ad approcciarsi al racconto alla scrittura diventa un laboratorio questo abbraccio lo è lo è questa è una delle notizie belle dell'abbraccio non scritta ma vissuta quello di essere un piccolo laboratorio giornalistico facciamo molta attenzione anche nelle riunioni di relazione a dare l'indicazione ai colleghi magari più giovani e permettimi di dire un po' meno esperti appunto avere un taglio da mensile non da un taglio da quotidiano o come può essere un taglio da settimanale quindi diventa anche il nostro piccolo un piccolo laboratorio giornalistico che in effetti qualche risultato a mio parere lo sta anche e lo sta anche danno quindi c'è anche questo vi farei anche commentare la vostra ultima prima pagina una delle ultime obbligazioni dove c'è quest'editoriale del Vesco il signor Savino che anche salutiamo e da lì si ha un po' l'indicazione di quello che poi è una prima pagina che è un po' una vetrina sopra abbiamo dei richiami ma una prima pagina che è un primo approccio alla riflessione tra l'altro in prima pagina in questa che avete mandato in onda c'è anche un contributo delle parchie di Lungro che è le parchie degli italoalbanesi dell'Italia continentale con il papas Alex Talarico che ci fa questa collaborazione ecco l'abbraccio abbraccio in questo caso è anche un'altra importante come un'eparchia le parchie di Lungro anche nell'ottica del cammino sinodale quindi un camminare insieme anche una sorta di ecumenismo insomma di un dialogo che chiaramente va oltre anche il rito insomma le origini sono assolutamente le stesse del giusto camminare insieme torniamo in Valsusa a questo punto allora entriamo nella redazione della Valsusa con il permesso della direttrice e andiamo a conoscere i redattori giornalisti che contribuiscono a questo settimanale vediamo il fatto di lavorare in un giornale fondato da un beato Edoardo Giuseppe Rosaz il fatto di proseguire in quella che lui aveva chiamato la santa impresa cioè questo giornale è intanto responsabilità ed è anche un onore oltretutto c'è una matrice cristiano-cattolica che porta a un approccio forse diverso alle notizie alle persone al modo con cui tu dai le notizie Nel 2018 in avanti abbiamo deciso di essere presenti quotidianamente online sia sul nostro sito www.lavalsusa.it sia sulla nostra pagina facebook che è La Valsusa e la nostra pagina Instagram cerchiamo di usare sempre un linguaggio garbato in questa bolgia di internet in cui tutti insultano tutti noi cerchiamo di mantenere comunque un linguaggio rispettoso non sensazionalistico dedichiamo mensilmente una pagina ai ragazzi quelli che saranno i lettori del futuro con vignette temi un po' più semplici temi più accattivanti una lettura che deve essere fatta in famiglia il grande dibattito sulla nuova linea ferroviaria Torino-Lione è stata una grande responsabilità il giornale ha scelto una posizione di fornire la massima informazione possibile quindi non ha sposato nessuna causa questo ci ha creato anche antepatia da una parte e dall'altra abbiamo cercato sempre però di dare il massimo dell'informazione e questo credo che alla fine abbia pagato abbastanza perché insomma siamo considerati una voce autorevole più riflessione che non partigeneria fino a se stessa ci fu un incontro a cui parteciparono un ex terrorista rossa e il figlio di una vittima delle Brigate Rosse fu un evento per certi versi molto contestato a priori in realtà fu un incontro di grande dialogo e che mi è piaciuto raccontare mi è piaciuto scriverne tant'è che ho ricevuto all'uscita dell'articolo dei complimenti anche da chi era stato scettico che si è almeno in parte ricreduto questa è stata effettivamente una grande vittoria personale quello di aver fatto cambiare idea a qualcuno che pregiudizialmente aveva espresso un'opinione negativa ecco Direttrice Federica Bello far cambiare idea sui pregiudizi al di là del singolo episodio credo che sia uno delle finalità anche della stampa di Cesana Assolutamente sì e sono tanti i casi e le storie che potremmo raccontare noi toccati dalla rotta dei migranti ad esempio è un altro tema che noi cerchiamo di raccontare dando voce a queste persone dando voce a storie di chi ha lasciato condizioni terribili di guerra di povertà e si incammina per i nostri sentieri per far capire la loro umanità e far capire come siamo fratelli tutti come diceva la carta e la vita dei giornali diocesani soprattutto nelle esperienze diciamo più piccole più giovani deve tanto anche la volontà dei pastori c'è un supporto non solo economico ma proprio di volontà di qualche modo di spinta editoriale è anche così per voi è così assolutamente sì Don Francesco Savino che è il nostro vescovo ci è vicino da sempre anche ci difende ci aiuta ci accompagna il suo editoriale è sempre un elemento fondamentale nella cifra del giornale quindi l'impegno dei pastori la Fisch ne racconta tante storie è fondamentale per la editoria cattolica per i settimanali mensili di diocesani quindi è sempre tra l'altro il ministro Savino fu uno dei primi ospiti qui è in cammino ormai due anni e mezzo fa è l'abbraccio mensile su carta e diciamo quotidianamente anche sui canali social facebook e anche sul sito della diocesi sì abbiniamo essendo un mensile cerchiamo di fronteggiare però la cronaca con i canali social nostri ma anche le diocesani anche delle parrocchie rilanciamo per esempio i post delle parrocchie diamo voce con i nostri follower a quello che fanno le parrocchie siamo legatissimi rilanciamo i post dell'ucs l'ufficio comunicazione sociale la cui direttrice catena la banca è una nostra preziosissima redattrice quindi cerchiamo di fronteggiare l'emergenza e la cronaca con come si fronteggia adesso con i social con i siti e di fare poi sul cartaceo l'approfondimento necessario anche per permettere di far passare messaggi un po' diversi a quello che come dice la direttrice è possibile far passare in pochi caratteri abbiamo poco meno di un minuto Federica Bello cosa speri per la Valsusa da nuova direttrice diciamo così io spero che continui a dar voce appunto alle storie di tutti sia un elemento di costruzione di una di una chiesa nuova bella che guarda al futuro nonostante tutto con speranza perché come ci ricordava anche ieri Papa Francesco insomma la speranza è quello che anima la nostra vita di cristiani e la nostra vita che passa anche dalle notizie una speranza che passa anche da come trattate la prima pagina una fotonotizia di una giovane atleta che diventa campionese italiana di corsa in montagna giustamente figlia del territorio ma di solito è una notizia questa che va in fondo al giornale nelle pagine di sport mentre qui diventa speranza per un territorio è certo perché appunto i giovani sono la speranza è una giovane che si distingue in anche una disciplina che è fatica grande fatica è un esempio è un esempio bello per cui qualunque fatica si trovi ad affrontare insomma vissuta con il sorriso e con la prospettiva un bel esempio anche per i più grandi per le generazioni che hanno preceduto questa grande atleta che salutiamo e ringraziamo come ringrazio i nostri direttori presenti oggi Federica Bello della Valsusa Domenico Marino dell'abbraccio due diocesi due realtà vive che noi continueremo a raccontare se volete rivedere la puntata scaricate la nostra app Play 2000 questa e tutte le altre puntate di TV 2000 noi ci ritroviamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino a presto